Tutto nuovo Io ho zonbo il voluto Però quando finiremo questa campagna, diciamo, dove vuoi andare Ma quanto tempo ci vuole? Quanti altri livelli stanno? Non c'è che è uno Ah, così... C'è un gesto È brutto, è brutto Il secondo Il secondo che non abbiamo usato un gioco Un gioco di gioco perché non potete sentire le cantine belle Ah, con la... con la mezza Sì, perché io ho le mod Sì sì Oh, non ho lanciato a destra a sinistra il colignino Poverino Il ditore Il ditore Sì, mi so sbagliato Il ditore gigante Il ditone La luce Con il pinguone gigante Oh... No, è la luce Il ditore 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 Non lo so io Ah no l'ho ucciso a corto a corto Ho ucciso con lo gnomo Giochi Ma questo è con Giotto della Spain Giochi Giochi Torni le luci Chiunque non lo so Chiunque non lo so Non lo so Ma tu Non lo so Non lo so Non lo so Ma mid night drive Uh, le ceste paddle s'ho trovato Quattro a trattato Lì sopra c'è la cifra Devo attivare qua Certo Già quando vedo che sto qua Un fucile da cecchino e molotov Ok Ora arrivo Ando su Ok io c'ho il Ma mi preoccupa che c'è la luce di paddle Ah grazie Ok La lascia qua La cesta paddle Uh adrenalina Ma qua devo schiacciare Torni le luci Andiamo va Sì Spai l'ora è Emo? Oddio Ma che la musica Cazzo Aspetta aspetta To' di Di Cosa Emo Il Un 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Come on, come on Come on si correte giù con forza dunque mi sa che un gioco quando dobbiamo andare a scacciare di nuovo il tasto sono gli spazi di destra sono Sono il mio cuore di tutti morire... Sono il mio cuore di tutti morire... Sono il mio cuore di tutti morire... Sono il mio cuore di tutti... Ma la questa è la saca, non sono, non è... Pai... Fui da l'altro Ma è il muletto, puttatino! ma no cazzo è arrivato da me 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 ognuno sto cercando di arrivare ci sono oh ma no Midnight Rider è pronta liberazione nani che cos'è Midnight Rider? beh ecco per cazzo no io l'avevo finita questa mamma mia la fatica bello 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 ma vedo mi ricordavo di averle fatte tutte dai vota per saltare no 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 è quello è quello a me fa morire quando muore qualcuno che alla fine c'è scritto in memoria di quello che muore dove era c'è scritto? se tipo muoio io e finita tutta la campagna tutta la serie di missioni diciamo così alla fine delle cose c'è scritto in onore di Piramaniac Hellfire mi ha disturbato di più la witch machine gun eeeh i 273 zomi sono stati feriti durante la lavorazione di questo film ok a Dead Rising ne ho fatti 72.000 la pure il prototipo è vero a lungo io muovendo che devo staccato ok ma no così ma no così